buongiorno a marie charlotte nashuri tu sei direttore marketing di euro commercial una società che gestisce centri commerciali e mi sembra interessantissimo capire come si comunica un centro commerciale anche alla luce del fatto che il post covid vi ha messo insomma una sfida molto importante quella della digitalizzazione ecco a che punto siamo e com'è il tuo percorso giusto monica grazie grazie mille l'hai detto siamo in un momento di trasformazione trasformazione perché i centri commerciali per anni hanno lavorato direi su una dinamica che era quello del della fisicità il contatto fisico il cliente veniva e viene tuttora nei nostri centri commerciali ma noi non conoscevamo bene questo cliente quindi misuravamo le affluenze misuravamo il fatturato ma poi il covid ci ha fatto capire una cosa essenziale che dovevamo accrescere quello che chiamiamo la digital reach ovvero come comunicare direttamente all'utente al visitatore in una modalità one to one quindi la trasformazione che stiamo intraprendendo ed è direi un momento molto particolare e anche eccitante per il nostro settore è quello che ci permetterà di avere una comunicazione personalizzata targettizzata lo sappiamo e lo sai benissimo tu la comunicazione mass non interessa più nessuno l'utente lo dobbiamo ingaggiare perché parliamo a lui come se instauriamo un dialogo di due persone che si conoscono io devo capire chi è cosa li piace quante volte viene e fidelizzarlo quindi questa trasformazione digitale per noi è passare da un numero un visitatore che misura su quante volte viene ma non più a veramente sapere esattamente cosa fa cosa fa nel mio centro cosa fa fuori del centro per offrirgli dei servizi dei prodotti che poi gli piacciono e fanno che tornerà nel nostro centro commerciale d'altronde poi ragionandoci i centri commerciali sono dei media tutti gli effetti tra l'altro mi dicevi le cifre cioè globalmente raggiungete 50 milioni di persone di più di più più di in italia quest'anno abbiamo avuto più di 55 milioni di visitatori nei nostri otto centri noi siamo presenti in altri paesi in italia abbiamo tre flagship che sono carosello fiordaliso e igili più cinque centri suburban quindi dislocati su su tutto il territorio si i centri commerciali sono un media un vero media e questo direi è una sfida che tutti noi come proprietari di centri commerciali dobbiamo veramente mettersi insieme perché è una media che non è ancora abbastanza ricco riconosciuto come tale quindi l'obiettivo che abbiamo è far che i nostri mall le nostre gallerie siano anche dei direi dei luoghi dove i brand nazionali internazionali scelgono di trasmettere la loro pubblicità perché avranno un target un'udienza direi che che è l'udienza che vogliono raggiungere quindi stiamo anche qua trasformando veramente il nostro approccio si parla di digital autovom di programmatic digital autovom quindi andremo anche qua e parliamo sempre di dati quindi raccoglieremo sempre più dati analizzeremo questi dati per venderli ai centri media per venderli anche ai nostri tenant o comunque a crescere sempre direi l'interesse del mall come un punto veramente fondamentale per questi questi brand che siano brand già presenti nei nostri centri perché sono i nostri retailer o brand esterni che hanno capito anche il potenziale di questo footfall o queste affluenze con una strategia che diventa duplice perché voi dovete comunicare globale ma anche locale perché poi ogni centro commerciale è un brand a se stante. Giusto Monica questo è veramente qualcosa che è importante ed è anche una peculiarità del nostro settore abbiamo alla fine in Italia abbiamo otto brand ogni centro ha il suo bacino di utenza il suo posizionamento le sue buying personas e quindi sia fatto da un mix merceologico che è quello presente nel centro ma anche di tutto quello che creiamo attorno a queste offerte gli eventi, i servizi, la comunicazione quindi noi siamo sempre direi a misurare il peso del locale cosa possiamo e cosa dobbiamo tenere molto locale e molto fisico come l'ho detto e cosa possiamo invece direi lavorare su una modalità più trasversale visto che abbiamo otto centri quindi dobbiamo anche avere direi delle economie di scale ma il lato locale è fondamentale per direi riconoscere l'identità del centro nel suo territorio. Quali sono le agenzie con cui collaborate? Anche la tipologia di agenzie che è più affine insomma alle vostre necessità? Allora lavoriamo con delle agenzie creative perché ogni centro come te l'ho detto ha la sua campagna creativa campagna creativa che dà direi veramente l'impronta e l'identità, la brand identity del centro e ogni centro ha la sua campagna poi lavoriamo con delle agenzie digitali, in questo caso noi abbiamo anche una sola agenzia che gestisce tutti i canali digitali dei nostri otto centri lavoriamo con SoWat e lavoriamo anche con tantissime agenzie che si occupano degli eventi e qua noi siamo strutturati anche in un modo in cui i centri commerciali sono gestiti da società di gestione quindi è veramente anche un dialogo con tutti questi direi persone che gestiscono le nostre comunicazioni che coordiniamo noi dalla casa madre di Eurocommercial ma che hanno nell'operatività un ruolo essenziale perché sono loro poi che vanno veramente a organizzare, seguire, far vivere la vita nelle gallerie commerciali, nei centri Nei centri commerciali, l'abbiamo detto, si muove una folla di persone che appunto si sposta, consuma, acquista il rapporto con la sostenibilità Allora il rapporto con la sostenibilità è sempre più importante Lo è per due motivi, noi abbiamo degli asset che sono comunque gestiti in un modo molto sostenibile Perché? Perché lo sai, ci sono delle regole e l'Europa ci ha anche, direi, fissati degli obiettivi In 2030 abbiamo come obiettivo di avere i nostri otto asset totalmente carbon neutral Quindi stiamo lavorando su questo, alcuni hanno già raggiunto questo obiettivo Abbiamo dei punteggi BREAM che è la certificazione, direi, sull'immobiliare E su questo siamo, direi, molto avanti rispetto anche ai nostri competitor Mi sembrava anche interessante comunicare questo fatto ai nostri visitatori E per quello che quest'anno esce una nuova campagna di comunicazione gestita da Alta Via Dove andremo a comunicare la nostra sostenibilità, l'impegno che abbiamo sui tre pilastri della nostra strategia ISG, sono tre pilastri, li abbiamo declinati con questo claim che è Be Green, Be Engaged, Be Responsible E quindi per ogni pilastro, Be Green ovviamente è la sostenibilità ambientale Quindi quanto siamo attenti a emettere il meno CO2 possibile Fornire o comunque lavorare su delle energie da fonte rinnovabile Il Be Engaged è lì, tutte le relazioni anche con le comunità locali, con il territorio Le associazioni, facciamo tantissime azioni di co-marketing con associazioni locali Che possono essere anche, direi, delle associazioni come il Banco Alimentare, il Lions Dove andiamo a lavorare sulla prevenzione sanitaria, dove andiamo a lavorare con le scuole Lavoriamo con i canili, quindi lavoriamo molto sul territorio Quindi Be Green, Be Engaged, Be Responsible Be Responsible lì è tutto il tema di governance, di etica Che per noi, essendo anche un'azienda quotata in borsa, è essenziale e che rispettiamo molto Volevo chiudere ovviamente con un occhio ai vostri numeri Sei quotata in borsa, siete quotati in borsa, immagino che non me li dirai Però insomma, quanto pesa la comunicazione come budget e come è splitta tra le diverse azioni? Hai parlato di una campagna advertising al via e poi? Allora, i nostri budget ovviamente dipendono anche, e sono dei budget centri per centri Noi quest'anno, se guardo il digitale, arriveremo tra il 35 e il 40 per cento del budget come peso Ed è direi una ripartizione che sta crescendo Tuttavia, siamo dei luoghi fisici Quindi ci deve essere sempre questo mix di canali offline, di canali online, di iniziative fisiche Perché l'obiettivo che abbiamo, e te l'ho detto sin dall'inizio, è far venire le persone Ma le persone devono trovare sin dall'inizio, e spesso il primo touch point può essere digitale Un ecosistema coerente, quindi provare sul digitale un'esperienza comunque che ritroveranno nel centro commerciale Quindi il mix si aggira attorno a questi numeri Non saremo mai 100% digitali, perché il contatto fisico è importante Hai detto, si viene per il shopping, si viene per ritrovare gli amici Si viene anche per mangiare, bere, le food court sono diventate anche dei luoghi di ritrovo molto importanti Quindi è un'esperienza direi a 360 gradi Grazie Grazie a tutti.